ma dobbiamo essere contenti dobbiamo essere contenti ma allora per l'amor di dio contento del risultato contento che la juve vinde ma a me non mi lo vince questa è una juve che ha paura questa è una juve che ha paura di attaccare ed ha paura di perdere ma si vede proprio questa è una juve che ha paura e sotto pressione non si sa da chi una juve che gioca contro l'organatore ma io sbagliano dei passaggi clamorosi ma non sto scherzando sbagliano dei passaggi clamorosi elementari io capisco che può essere anche un problema di allenatore sicuramente sarà un problema di allenatore ma non è possibile ma io sono passaggi che faccio anch'io c'è una fatica è bene lei ci ha fatto zero di rimborta però ha tenuto il campo meglio della juventus sì è vero ci ha mangiato un paio di culi potevamo due tre a zero tante occasioni ma vai giù squadra disordinata in campo c'è veramente rabbio oggi ha fatto proprio pietà danilo sono un mesetto che fa ridere non capisco non capisco e ha buttato in panchina costic buttato in panchina vabbè milic se la meritava questa scienza primo tempo bruttissimo di milic perché giustamente il giocatore ha bisogno di di giocare di prendere confidenza col pallone primo tempo è guardabile di milic poi secondo tempo in crescita dove ha trovato il gol e poi il giocatore quando trova il gol a rivederci ma ragà ken non si sa che fine ha fatto il diz non lo fa entrare per paura fischi del pubblico dello stadio che cazzo andate a fare lo stadio ma saranno pure giusti fischi ma se fischi mi dici come fai ad applaudire a fine partita siete dei ridicoli cioè vi prendete in giro da soli come fai a fischiare tutta una partita e poi applaudire quando esce fagioli quando esce passate guaiate che cazzo andate a fare lo stadio ma si canta lo stadio comunque non la vedo bene vai pure cura a freddura voglio fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io sono distrutto oggi sono andato a fare il corso obbligatore per il lavoro neanche addormito sono che ci sono fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa partita imparazzate 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 grazie grazie